salve sono angelo rocchetti commissario tecnico delle squadre nazionali trial in questo video tutorial faremo dei piccoli esercizi che servono a migliorare l'abilità in bicicletta e quindi a garantire una maggiore sicurezza agli atleti il primo esercizio riguarda la simulazione di una situazione che ci può capitare in strada l'apertura di una porta un ostacolo improvviso per terra un bambino che ci attraversa la strada vedremo come poterlo affrontare in un modo veloce e riflessivo destra 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 quando si circola su strada che sia per allenamento o per spostarsi con amici bisogna sempre mantenere il margine destro della strada bisogna procedere in fila e stare più vicino al prossimità del margine destro proprio come stanno facendo i ragazzi che vediamo arrivare adesso al contrario se ci alleniamo in uno spazio sicuro potremo invece permetterci di eseguire la curva al meglio sfruttando l'intera carreggiata stradale iniziando la curva dal punto più esterno tagliando alla corda e sfruttando anche in uscita l'intera carreggiata come faranno i ragazzi che si stanno avvicinando io 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 io